Oggi è il 16 luglio e domani c'è l'inaugurazione dei mondiali di nuoto di Roma e siamo qui a Tor Vergata, sono le 19.43 e stiamo documentando lo stato dei lavori. Come potete vedere c'è un cartello addirittura nuovo ma già piegato e indica la direzione dei lavori. C'è la prima curva a destra ma se vogliamo guardare oltre basta zoomare un pochino e oriamo a trovare una sembra di gru e un'opera praticamente alle fondamenta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 16 luglio 2009 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.